Sono già attivi da quasi due mesi, ma l'iniziativa che li vedrà protagonisti nei prossimi giorni è la prima che realizzeranno in piena autonomia. Il Rotaract di Andrea, l'associazione giovanile del Rotary Club Andrea Castelli Svivi, si presenta ufficialmente alla città organizzando in piazza Catuma la vendita dei tradizionali occhi di Santa Lucia, tarallini glassati tipici del periodo natalizio. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alla casa famiglia Onlus assieme per l'acquisto di farmaci o beni di prima necessità da destinare agli ospiti della struttura. Il Rotary Club di Andrea ha sempre avuto un club Rotaract di giovani, cioè che qualche anno fa in realtà poi si è estinto in qualche modo perché non c'è stato quel ricambio generazionale che normalmente garantiva la sua sopravvivenza. Rotaract che peraltro aveva fatto delle iniziative davvero molto molto lodevoli e interessanti, coinvolgendo in questo spesso anche il club Rotary che è il padrino in qualche modo di questa iniziativa. Quest'anno ho preso l'impegno con tutti di ricostituirlo e in realtà un mesetto fa circa abbiamo ricostituito il club Rotaract che piano piano adesso sta vivendo di una sua vita autonoma che si sta estendendo, allargando il numero dei propri aderenti e quindi proponendo anche delle iniziative molto interessanti. Entusiasmo e divertimento al servizio della solidarietà. I giovani rotariani si sono trasformati in improvvisati pasticciri cimentandosi nella preparazione di gustusi tarallini, guidati da mani certamente più esperte e seguendo antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Le materie prime, ci tengono a sottolineare, sono state fornite da diverse aziende del territorio che hanno voluto in questo modo collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa. Il fine del service è molto nobile, nel senso che andiamo a sostenere una casa famiglia onlus assieme e per fare questo ci siamo molto impegnati per la realizzazione di questi dolcetti, dal principio nel cercare la materia prima, quindi ci siamo rivolte a delle aziende locali per cercare la farina, l'olio, il vino e poi ci siamo impegnati nella realizzazione grazie alle tre di Traiano che ci ha offerto la cucina, quindi ci siamo improvvisati pasticceri e ci siamo proprio adoperati alla realizzazione, poi li abbiamo impacchettati e adesso siamo pronti. Il 18-19-20 saremo presenti in piazza Catuma ad Andrea dal venerdì pomeriggio, poi sabato e domenica mattina e pomeriggio in uno stand che è stato messo a disposizione dal comune per i mercatini di Natale e quindi saremo lì a vendere questi dolcetti per chi li vorrà acquistare.